Il prossimo grano, War, è dedicato a Bale. Il prossimo grano, War, è dedicato a Bale 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 che non posso controllare e la scoperta è troppo difficile da capire da dove vengono e mi ricordo che la scoperta è da questa scoperta e qualcuno guarda me ma 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 Is pure Malacque Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.